Eccomi qua, è appena finita la prima del musical che hanno fatto sulle mie musiche, sono contentissimo. Chiara Noschese, chi l'ha scritto e l'ha diretto, e i ragazzi del cast sono stati veramente bravissimi, mi sono emozionato le riprese, spero che vi piaccia tanto quanto è piaciuto a me, a me è piaciuto molto. Ciao!